L'hanno denominata White Mule, cioè Mulo Bianco, l'operazione portata a termine dai finanzieri di Pesaro che hanno eseguito nei confronti di tre uomini e due donne nelle città di Fano, Terre Roveresche e Cartoceto, nonché, a Torri Annunziata, cinque ordinanze di custodia cautelare, di cui due in carcere e tre agli arresti domiciliari. Durante le indagini sono stati perquisiti sette domicili e sono stati sequestrati un Audi Q5 e un T-Max utilizzati per lo spaccio di droga, ma anche del materiale per il confezionamento delle dosi e 16.000 euro ritenuti proventi dell'attività illecita. Il lavoro delle fiamme gialle era iniziato ad ottobre dello scorso anno, quando nei pressi del casello della 14 a Fano era stata controllata un'auto con a bordo tre minorenni e due donne di origini campane di 33 e 37 anni. La perquisizione del veicolo, effettuata con l'ausilio del cane Alex dell'unità cinofila di Pesaro, aveva portato al sequestro di 550 grammi di cocaina che le due avevano tentato di disfarsi gettandola dietro ad una recinzione. La droga, il mezzo utilizzato e tre cellulari sono stati subito sottoposti a sequestro e le due donne erano state arrestate e portate nel carcere di Villa Fastigi. La prosecuzione delle indagini, anche attraverso il contenuto del materiale informatico, ha consentito così di delineare il ruolo delle cinque persone, tutti di origini campane. Per l'approvvigionamento utilizzavano alcune staffette provenienti dalla campagna e poi spacciavano le sostanze stupefacenti sulla piazza di Fano, in particolare nel parcheggio di via Nasseria e nell'entroterra. Tra i clienti invece c'erano molti giovani. Oggi, dopo la richiesta e l'ottenimento delle misure cautelari nei confronti degli indagati, sono state eseguite.